Resterà fino al 9 settembre nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra un viaggio straordinario dedicata a Corto Maltese, il marinaio giramondo del fumetto creato dall'artista romagnolo Hugo Pratt. L'iniziativa è stata realizzata da Comic-Con assieme a Patrizia Zanotti che a lungo ha collaborato con Pratt. Corto Maltese incarna forse oggi la persona, il simbolo di quella libertà e di quel rispetto per le altre culture. Che giustamente il mare mette in comunicazione, non divide, il mare comunica, il mare apre e il mare porta e quindi Napoli è la città esempio di tutto questo e Corto Maltese ha sempre girato, ha sempre rispettato le altre culture, forse perché lui non ne ha mai avuto solo una di riferimento e quindi sa apprezzare le altre, sa riconoscerle e sa rispettarle. Prelude ad una grande mostra sul mare della Magna Grecia che faremo ad ottobre, ma soprattutto rafforza il rapporto che abbiamo tra museo e Comic-Con e delinea degli itinerari, degli scenari che legano da sempre l'uomo al mare e che portano il tema del fascino per l'ignoto, dell'incontro tra le genti, delle avventure, dei tesori, tutti i temi che si respirano nel nostro museo. L'universo immaginario di Corto Maltese viene ricostruito in uno spazio dedicato, con un centinaio fra tavole, schizzi originali, testimonianze e fotografie. L'iniziativa è il patrocinio morale del Comune di Napoli. Siamo felicissimi che questa mostra così straordinaria di Ugo Pratt, Corto Maltese, si tenga al Mann. Nel nostro Museo archeologico nazionale, insieme ai reperti archeologici, i reperti subacui, il mare, la storia, quello che oggi il mare rappresenta in termini di umanità e disumanità. Quindi ancora una volta Napoli che viene scelta per mostre così importanti. Ormai Napoli e il fumetto sono un legame indissolubile.